L'ambizione di questa legge, che è una legge di sistema, è proprio quella di unire e raccordare un po' il nostro territorio e non di dividerlo, visto che proprio la peculiarità dell'Abruzzo è quella di unire in un fazzoletto di terra non troppo estesa una molteplicità di scenari e di bellezze che passano appunto dalla costa all'interno e dall'interno alla costa. Sicuramente il risultato, le numerose bandiere blu conquistate quest'anno, sono un vanto per la nostra regione, sono anche il segnale che evidentemente gli sforzi, gli investimenti fatti in questi anni nell'ambito della salvaguardia ambientale anche in una zona fortemente antropizzata come la costa sta portando dei risultati. Ma non meno importanti poi sono gli investimenti, le risorse che tra l'altro grazie proprio all'intervento della Lega al Governo abbiamo recentemente avuto per le nostre zone interne, in particolare per le montagne, dovranno consentire appunto di fornire queste zone anche di quei servizi, di quelle infrastrutture necessarie a contenere e magari invertire la tendenza dello spopolamento perché siamo consapevoli che una regione che ambisce al benessere non può pensare di programmarlo e realizzarlo soltanto in una parte del suo territorio ma deve spalmarlo evidentemente su tutto il territorio. Tra l'altro quello del tema del raccordo costa interno è un tema che molto spesso è stato centrale nelle campagne elettorali dell'Abruzzo ma come sostengo io molto spesso sono rimasti poi slogan elettorali o circoscritti nei programmi elettorali ma che hanno trovato grande difficoltà nell'essere attuati. Credo che una legge di questo tipo e soprattutto questo tipo di obiettivi potrebbero rendere invece concreta la realizzazione di quel raccordo territoriale che penso sia una delle chiavi di volta per garantire alla nostra regione una stagione di progresso, di benessere e di prosperità.